Lancia Rally, più conosciuta come 037, carrozzeria pininfarina realizzata in vetro resina. Motore a quattro cilindri sovralimentato da un compressore volumetrico. 037, stabile su ogni terreno, veloce, agile, scattante. Qualità che portano la 037 a conquistare nell'83 il mondiale rally marche e sempre nello stesso anno il mondiale rally piloti.